chiude la chiude la chiude la chiude cazzo la chiude la chiude la chiude la chiude godiamoci gli ultimi 5 minuti della partita magnan 2 a 0 viola 89 mamma mia se fosse giocato tutto il campionato così ragazzi miei uno spettacolo non c'è dodò mamma mia se questo è il vero dodò ragazzi io credo che sia questo il vero dodò Jovic è entrato ha fatto un gol strepitoso Gonzales Buonaventura sempre ci vuole sempre in campo Cabral il migliore in campo della Fiorentina tutto bellissimo tutto bellissimo e ora comunque continuiamo dai fino alla fine portiamocela a casa con il punteggio pieno non ci fate soffrire fino a fondo perché grande Amrabat grande partita grande Gonzales tutti bene tutti bene Terracciano bene che ha fatto la parata Mandragora bene tutti tutti non c'è non c'è un'insufficienza in campo non c'è un'insufficienza in campo Igor Igor un mostro un mostro quarta tutti bene cioè che devo fare ora stasera sul sondaggio non so chi mette chi cazzo mette nel sondaggio tutti perfetti 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 guarda quel Mimmo che bello è Siamrabat anche lui monumentale stasera giocasse tutte le partite così rientra sottile bene anche questa buonissima notizia benissimo 5 minuti vai manca 4 minuti già un minuto è passato un po' di perdita di tempo per il cambio e dai buttiamone dentro un'altra almeno ci riprendiamo un po' di gol che abbiamo perso in questa prima parte del campionato che bella Fiorentina ragazzi che bella che bella Ibrahimovic ormai un giocatore è finito ma io lo dico da da tempo dai su non ce la fa più a reggere i ritmi di giocatori cioè non ce la può fare poi per l'amor di dio è stato un giocatore meraviglioso cioè però cioè quando quando una persona è arrivata a fine deve porre porre fine alla carriera se no insomma fai solo figure anche ora tiro in porta di Ibra ma pochissima roba pochissima roba certamente questo non è Milan dell'anno scorso è proprio totalmente un altro Milan aveva fame come come il Napoli quest'anno grande Fiorentina dal primo all'ultimo perfetto Dodò ha fatto io non lo so dovrò vedere quanti chilometri ha fatto Dodò perché quel figliolo ha fatto 200 chilometri in quella fascia oggi eh amore lo so lo so a giocare amore siete bimbe succede a farsi male dai siete mimmine dai su quasi finita sbaglia la prima palla di Sottil vediamo bella così Sottil bravo ora finalmente c'è è rientrato anche Castrovigli e Sottil Luca Jovic benissimo è entrato molto bene in campo tiene palla all'angolo è anche nostra è anche nostra un minuto e mezzo alla fine un minuto e mezzo alla fine che bellezza mamma mia giocassero tutte tutte le partite così abbiamo una bella squadra io non capisco non capisco perché perché si sono poi sbloccati ora finalmente tutti e due gli attaccanti sono troppo contento perché comunque sia se gioca a Jogic o gioca a Cabral mi segnano che spettacolo ragazzi che spettacolo oggi è stato tutto bello tutto bello vai dai dai un minuto solo e poi tutti a casina tutti a casina eh comunque complimenti anche alla questura di Firenze che ha fatto poi dopo si fanno a schiaffi lo possiamo anche capire no sono tutti in curva ferrovia comunque lasciamo fare dai lasciamo fare lasciamo fare questo ultima l'ultima azione del Milan lo sapete eh l'ha segnato cazzo ha segnato il Milan ha segnato il Milan 2 a 1 l'ha fatto bello forse uno che vale del Milan è proprio Teo Hernández bello ha fatto molto bello tanto vabbè noi noi ci garba fino a un fondo patire palla per icone però la tiene l'icone da zona non funziona la sega finita è finita è finita dai tanto ti pareva a te ti pareva a te va su allora fateci giocare no fateci giocare è finita meritatissimo buonanotte a tutti ragazzi è finita no Grazie a tutti.